Andiamo con l'episodio! Sentiamo! La pulverata, non c'è! La pulverata! Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana, il pianeta Tatooine era oppresso dagli oppressori, combattuto dai combattenti, attaccato dagli attaccanti. Due Jedi, soli, con il potere della forza, devono fermare le armate del Darth Vader. Il più anziano dei due Jedi, il maestro Roku Obi-Wan Kenobi, deve portare a termine una missione. Iniziare ai misteri della forza il piccolo Anakin Skywalker, un giovane che vive ai margini del deserto con la madre. Ed è proprio lei che alleva il piccolo fino all'età di nove anni, vendendosi ai droidi di passaggio del pianeta Naboo. Intanto, il maestro Obi sta meditando in posizione Jedi. La sua concentrazione è turbata dai vicini di casa, la famiglia del maestro Yoda, primo capo Jedi. È l'unico, un prezzo interessantissimo, perché sono costruttori che tra tutti noi e nessun altro ve ne può vendere a questo prezzo, come ci possiamo permettere noi, proprio per il motivo che le contiamo noi. È un'esperienza trentennale, è direttamente per le vie. Ragazzi, cos'è il tuo casino? O te lo so? Yoda, io sono qua, morganizzo o piano. Io sono qua, morganizzo o piano, per quanto avevano le forze imperiali. E tu, tu guardate la passione. E poi che guarda a Sarabanna. Immaginate, vedi, andate. Un attacco. C'è un attacco, c'è un attacco, cosa sta succedendo? Yoda! Hai visto? Vai a tentare lo stipo e prendi un troppo di. Come non capisci, vai nello stipo. E prendi il fucile e i tripodi. Sì, sì, il tripodi. Non hai fede nella forza, non ho? Ho fede, ho fede, ma prendimi il tripodi. E con la forza, senza il tripodi, non facciamo un gatto. E poi portami pure un vedono, che lo rendiamo depolverato. Ma cos'è? Sì, lo rendiamo depolverato. Ma cos'è? Maestro Obi, maestro Obi! E me? Dalle navicelle imperiali è sceso il perfido a Darth Vader. Sta venendo da lei per il duello finale. Finale? Ma mi toccare io con io. Con le spazi. E poi anche... Sì, maestro Rocco. Sta arrivando il perfido. Sì, ma arriva il Vader e basta, siamo capretta. Maestro Obi. Yoda! Hai preso il tripodi? Sì. Ecco, sarò andati a trovare. Senti come respira male, eh. Ehi. Ben trovi, arriva il Darth Vader, arriva il Darth Vader! È ovvio. Ti stavo aspettando a quando... Eccolo così. ...ci rincontriamo finalmente. Ora il cerchio è completo. Sì. Quando ti ho lasciato non ero che un discepolo. Ora sono io il maestro. Sì. Con quello che guadagnano i maestri era meglio che ti facevi il professore all'ETG. Comunque adesso ti sparo un colpo col fucile e trepone... ...e ti faccio vedere chi è il maestro. Sentiamo. Colpo di trepone! I tuoi poteri sono deboli, vecchio. Eh, ma lebole. E mo ti faccio vedere. Pulvarata! Aia! Ma cos'è la pulvarata? Navetta tre a morte nera. Attenzione, siamo stati colpiti da un getto di pulvarata. Guerra Stellare. Episodio 1. La minaccia del fantasma. Per prenotazioni videocassette, telefonare a Pronto Videocoviello. Via dei Passionisti 3, quartiere Fallonetto, Napoli. Oppure recarsi in Piazza Capuani 2 e chiedere di Lorenzo o Merciandiso. Ecco. La nuova, la nuova, la nuova, la nuova, la gravatta è gialla. Va bene, ok. Ciao!